Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info E' meglio un cristiano con topi morti Perfetto, scommetto il più figo e il più bravo del suo corso No, e ci prendi due? Oh, allora ci faccia il cristiano! Allora Foreman, il paziente è molto migliorato vedo Beh, in un certo senso, sì In che senso? È passata miglior vita, dottor House E vai Ma è riuscito a farci causa? No, dottor House, non è riuscito E vai No, non esulti L'associazione WWF ci ha fatto un danno di 80 milioni di dollari Vabbè, vi andate Ma la perderanno, vero? No, l'hanno già vinta E vai Ciao Foreman, io vado a casa Arrivederci, dottor House Ci vediamo domani Arrivederci No, dottor House No Foreman, Nikkila Ehi Buon bacio Di cacca, cacca, cacca Dr. Rock The cameraman An essential selection Allora Foreman, vedo che il parente, il paziente è molto migliorato Dai, vai, edite Paraglino Ha Ecco come ti fa a bere E' il cance! Nasss' 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 Ha! 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 Ha!